Fratelli e sorelle bianconeri, oggi vi parlo di diritti tv, voi direte ma che cazzo di video è? Fidatevi che c'è un motivo, fidatevi! Ragazzi, glielo hanno assegnato i diritti televisivi per la Coppa Italia e per la Supercoppa Italiana per i prossimi tre anni Pensate, finalmente non saranno più della RAI Sono state assegnate a Mediaset Ciò che cosa vuol dire? Che la RAI ha perso definitivamente tutto Non ha più un'emerita minchia Con la Serie A su Dazzone, la Champions tra Sky e Amazon Prime La Coppa Italia e la Supercoppa Italiana su Mediaset A questo punto la RAI è rimasta col cerino in mano, non ha più niente Barriale e la sua redazione di merda di RAI Sport non hanno più un cazzo È finita l'epoca delle partite senza replay Senza neanche la riga tirata per vedere se c'è fuori gioco Senza il punteggio in solo impressione Con replay mandati 20-30 minuti dopo Con moviole fittizie, le moviole di Pieri senza neanche la lente di ingrandimento Cioè con immagini sfocate Una TV da terzo mondo, TV che paghiamo, che paghiamo noi italiani Che paghiamo ragazzi TV da sempre anti-Juventina Con l'avvento di Barriale e direttore di RAI Sport L'anti-Juventinità di questa rete si è quintuplicata Si è decuplicata anzi Perciò finalmente sono finite queste inquadrature ignobili Nel 2021 inquadrature ignobili da terzo mondo Neanche una statistica, una sovraimpressione Una rete da terzo mondo Che purtroppo dovevamo sorbirci poche volte all'anno Ma dovevamo sorbircela Coppa Italia e Supercoppa Italiana Ora pensate, Inter-Juve di Supercoppa Italiana O si farà ad agosto o più probabilmente il gennaio del 2022 Ma sarà su Mediaset Basta sentire questi telecronisti che non sanno neanche regole basilari Del nuovo regolamento del calcio Tecnicamente sanno poche niente Anche i loro assistenti, ex calciatori falliti Che non hanno la minima cognizione di cosa sia il calcio del 2021 Ragazzi, il calcio di questo millennio Giornalisti o presunti tali che sono rimasti veramente a 30-40 anni fa Veramente una TV quasi da regime sovietico Una TV da regime sovietico Non è cambiato niente negli ultimi 40-50 anni La RAI è rimasta tale Anzi, il degrado è stato sempre peggiore L'anti-Giuventinità L'odio si è sempre più rafforzato Ed era sinceramente insopportabile sentirli Ripeto, poche volte Fortunatamente poche volte l'anno Ma comunque insopportabile Ora non ci sarà più pericolo Per i prossimi tre anni hanno zero 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 sotto zero La RAI non ha più un cazzo La RAI non ha più un cazzo Respiriamo Respiriamo finalmente Amanti del calcio Respirate assieme a me Questa pentata di aria pulita La RAI si è presa Si è preso un grandissimo Non lo posso dire Quello lì Quello lì Dietro il sedere Fino alla fine ragazzi